Cosa sta succedendo a questo Pescara a due punti nelle ultime quattro partite? Cosa sta succedendo? Si sa che il campionato di Serie B è un campionato molto lungo, di 42 partite. Ci sono dei periodi in cui le cose non vanno come dovrebbero andare. Noi ce la metteremo tutta per riuscire da questo momento, come abbiamo fatto mesi fa. Ma sono sicuro che ci riusciremo a partire già da domenica, questo mi sento di dire in questo momento. C'è qualche problema anche in attacco, la partenza di Maniero, qualche problema probabilmente lo ha creato. Voi come state vivendo questa fase di campionato e anche un po' le critiche che arrivano dalla piazza nei confronti soprattutto del tecnico ma anche della squadra? Ma io non credo ci sia un problema in attacco o in difesa al centrocampio. Quando i risultati non vengono è un problema di tutta la squadra. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità come è giusto fare. Ripeto, noi abbiamo le capacità di poter uscire da questo momento e sono sicuro che ci riusciremo il prima possibile. Per quanto riguarda le critiche all'allenatore, le critiche si devono accettare come le accettiamo, come vengono fatte anche su noi calciatori. Raffaele, domenica c'è questa gara col Catania, come giudichi questo impegno sicuramente severo con una squadra che è uscita completamente cambiata dal mercato ma che dopo due vittorie sta incontrando qualche problema? Sicuramente a gennaio hanno fatto un mercato da prima della classe. Hanno speso tanti soldi e hanno preso giocatori importanti per la categoria ma sappiamo benissimo che in questo campionato i nomi non fanno la differenza. Fa la differenza quello che uno mette in campo, la voglia di vincere la partita come è successo sabato a Latina probabilmente che loro si trovavano in una situazione di classifica peggiore della nostra e hanno messo più cattiveria in campo e infatti la partita l'hanno vinta loro. Sicuramente non ci faremo intimorire dai nomi o dal nome Catania Calcio, assolutamente. Questa sarà una gara però da non sbagliare? Sicuramente una gara da non fallire perché è una gara che ci può dare tanto a noi soprattutto per iniziare il finale di stagione alla grande. L'ultima Raffaele rivedrai, credo con piacere, Pippo Maniero, cosa gli dirai? Io l'ho andato a trovare penso in albergo perché sono squalificato e non posso entrare negli spoglatoi ma è un ragazzo che ho avuto la fortuna di conoscerlo per sei mesi infatti mi sento ancora tuttora e sicuramente è una persona che porterò con me.